Gentili telespettatori, buona giornata. Il leader della Lega Matteo Salvini dice che ci sono 20 milioni dal continente africano pronti ad arrivare in Europa, in Italia, che si prospetta un autunno di fame e carestia senza la semina del grano. Dice che bisogna spendere i soldi per il cibo, ma se non semini il grano ora a maggio poi non lo raccogli in autunno, quindi se non c'è pace ora ci sarà un problema enorme di carestia e di fame nel continente africano che poi diventerà un problema umanitario e poi un problema italiano. Ci sono 20 milioni di cittadini africani che presto saranno alla fame e saranno pronti a partire. Dunque arrivare alla pace entro maggio, il mese mariano, è questione di sopravvivenza per l'Ucraina. Dunque questa è la riflessione di Salvini nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Beh, siamo d'accordo tutti con te Salvini che questo è un problema, però il fatto è che la soluzione non è nel raccontare nelle interviste pronunciare la parola pace. Pronunciando la parola pace la pace non arriva. Non è così che funziona. Andare in giro a dire pace 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 senza poi cercarla effettivamente in alcuni modi è solo una questione elettorale. Ecco, se come lui ha scoperto e come hanno scoperto che gli italiani sono per la pace, come è normale che siano, tutti sono per la pace, allora questi due capi politici Salvini e Conte vanno in giro a ripetere nelle televisioni la parola pace. Va benissimo, però se diventa un fine un fine elettorale, un qualcosa per raccattare qualche voto, perché Conte racconta le stesse cose di Salvini, le ha raccontate l'altro ieri in televisione da Formigli. Bene, gli hanno chiesto, va bene, ma dietro questo che cosa c'è? Come? Come? Al posto di ripetere continuamente la stessa parola per accaparrare qualche voto, come raggiungere la pace? Questo è il vero punto. Come? Non certo continuando a ripetere la stessa parola nelle televisioni per raccattare qualche voto. Ovviamente Conte non ha risposto, in televisione ha cambiato discorso, ha dato delle risposte che non centravano con la domanda. Il giornalista gli chiedeva come, come raggiungerla, perché a parole siamo bravi tutti, eh? Questo che dice Salvini, quello che dice Conte, lo possiamo ripetere tutti all'infinito. Solo che, questo è facilissimo dirlo, la cosa più difficile è trovare la soluzione. La soluzione. Intanto, come vi raccontavo, ad esempio, pollo, burro, biscotti, ci sono i prodotti alimentari che sono aumentati a dismisura. Un'ion camere rileva un aumento del 2,1% nel mese di marzo per la media dei 46 cibi maggiormente consumati, con una crescita che si porta al 10,9% rispetto a marzo del 2021. Un'inflazione, chiamiamola alimentare, di quasi l'11%. Sapete che l'inflazione prende un paniere di beni che si reputano essenziali. Tra i beni essenziali c'è anche il telefonino, per esempio, la vacanza. Ecco, per farci capire. Però, guardando l'inflazione solo sul cibo, è un 11% di crescita. Poi, mixata fra tutte le cose, si ha un'inflazione tra il 6 e il 7%. Ma solo il cibo è un 11% di crescita. E con questa crescita c'è una diminuzione degli acquisti di cibo da parte degli italiani del 6%. Quindi gli italiani stanno mangiando meno. Stanno facendo involontariamente una cura dimagrante. Le rilevazioni sui prezzi pagati all'industria alimentare, della centrale di acquisto e della grande distribuzione mostrano un aumento del più 2,1% in un mese solo. In un mese solo sui 46 prodotti alimentari maggiormente consumati. Come vi dicevo, che porta alla crescita rispetto esattamente a 12 mesi fa, marzo 2021, del 10,9%. L'indagine condotta da Union Camere con la collaborazione di BMTI e REF Ricerche prospetta un'ulteriore intensificazione dell'inflazione nel bimestre aprile-maggio quando ci si attendono aumenti per la media dei 46 prodotti alimentari del 3,5% in un mese solo portando la crescita su base annua fino al 12,7%. Quasi un 13% dell'aumento dei prodotti alimentari più utilizzati. Uno scenario che già presentava tensioni a causa di molteplici fattori. energetici, climatici e sanitari. Poi lo scoppio della crisi internazionale ha ulteriormente spinto a rialzo i prezzi dei prodotti alimentari. Sottolinea Andrea Prete che è il presidente di Union Camere. Una corsa che non accenna a rallentare, a svantaggio dei costi pagati dalle imprese e dei bilanci delle famiglie. Ad esempio uno dei rincari più alti è il pollo fresco più 4,3%, il burro più 3,8%, la pasta 3,7%, il riso 3,7%, i biscotti 3,6%, il pane 3,4%. Per effetto dei rincari delle materie prime, grano duro, grano tenero e dell'energia già in atto nel 2021. E così su base annua il pollo sale del 34,8%, l'olio di semi vari del 30,5%, la pasta di semola del 22,5%. E questo è assolutamente pazzesco, pazzesco e va a erodere il potere di acquisto degli italiani che hanno meno soldi disponibili. Meno soldi vuol dire che poi non spendono, le aziende non incassano, non vendono e si entra in recessione con una inflazione così alta che sfocia nella stagflazione. Grazie a tutti e arrivederci.